Ottava corsa, il premio Narisso, seconda tris, 2060-2080 metri per 16 concorrenti nei nasi di partenza. Il primo segnale è subito valido, dall'esterno è veloce Zardangal a portarsi nelle prime posizioni, ma la partenza è valida. Zardangal è leader nei confronti di America Spritz, poi Amazing Lux, quindi ancora con il numero 4 per linee esterne Ariel che risale e va a portarsi a ridosso di Zandargal, più indietro con il 7 Vastazfonte Mill, un gruppo molto sfilacciato, ci sono state anche delle rotture e ora Zardangal si mantiene al comando, retrocede invece Ariel che si pone alla corda in quarta posizione con il Plotone che per le prime posizioni è in fila indiana e si arriva così agli 800 metri che Zardangal percorre nell'ordine del minuto. Zandargal, American Spritz, poi Amazing Lux all'esterno il 7 di Vastazfonte Mill a precedere ultimatum Moon per corsie esterne, chilometro della testa della corsa che va via nell'ordine dell'1.15.5 con sempre Zardangal al comando. Ora il gruppo alle sue spalle si è un po' ricompattato, mancano 800 al traguardo però Zardangal si mantiene in evidenza con sempre American Spritz in schiena, Amazing Lux in terza posizione a corda precedere Ariel mentre all'esterno si fa vedere con il 7 Vastazfonte Mill che ora prova ad accorciare sul leader. 400 al parametra dritto opposta in 29.8 la schiera di Vastazfonte Mill presa da Ultimatum Moon poi ancora il numero 1 di Victor Ciac SM si va così al completamento della piegata con Zandargal ancora al comando con sempre Vastazfonte Mill al fianco cerca spazio American Spritz che poi sbaglia quando si va in addirittura d'arrivo con Vastazfonte Mill che sta passando nei confronti di Zardangal poi si fa vedere anche con il 6 Ultimatum Moon intanto è passato Vastazfonte Mill che deve però avere la con Ultimatum Moon poi più indietro anche Victor Ciac SM Vastazfonte Mill che viene a vincere su Ultimatum Moon Zardangal Victor Ciac SM 2.29 e mezzo sul cronometro per il bel successo di Vastazfonte Mill e Daniele Cuglini che hanno nel finale debellato la resistenza di Zardangal che aveva provato la fuga al comando ma negli ultimi metri si è dovuto arrendere, supraavanzato anche da Ultimatum Moon il 7 al primo posto, il 6 al secondo, il 5 al terzo, questa la Tris, combinazione Tris per questa seconda Tris, 2.29 e mezzo, siamo nell'ordine dell'1.15 appena abbondante per media al chilometro con il successo che premia quindi Vastazfonte Mill per la guida di Daniele Cuglini il training del medesimo e i colori del signor Giuseppe Colantonio è tutto per il convegno odierno, gli appuntamenti sono per sabato 8 e mercoledì 12 maggio con le corse al trotto a voi tutti, a più cordiale buonasera